Blogos Web Radio Ciao a tutti amici del Blogos, siamo qui oggi in compagnia di Soila Soflai, presidentessa di Maracatimba. Innanzitutto vorremmo iniziare chiedendole chi sono i Maracatimba e come siete nati. Maracatimba è un gruppo di percussioni afro-brasiliane e un'associazione culturale, da un annetto in questa parte. Il gruppo è nato due anni e mezzo fa, tre anni fa, grazie al laboratorio Partot. Una parte di elementi che partecipavano a questo laboratorio Partot si è distaccata e ha cominciato a suonare separatamente. Il gruppo ha preso forma e ha preso anche un nome, perché di fatto prima non ci chiamavamo così, non avevamo un nome. Qui al Centro Giovanile organizzate un corso laboratorio di percussioni. Che cos'è esattamente e cosa si impara? È un laboratorio di percussioni afro-brasiliane.